Allora, ci sono questi giochini che vi permettono di guidare le automobili muovendo il telefono, ma insomma non è proprio un volante Allora, come si può produrre fare un volante con pochi soldi? Si prende un bel piattino di carta, di questi che abbiamo in casa del nastro adesivo Si prende il nastro, si mette sopra il piatto fino a ottenere un oggetto di questo tipo Quindi questa è la parte appiccicosa Si appiccica il telefono Ed eccoci qua che adesso mi faccio una gara se non dovessi continuare la trasmissione Wow, 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 wow Vabbè, vuoi fare anche tu? No, vabbè, io vado avanti Wow Wow Wow